ecco qui io adesso me ne vado eh ma no tanto il cameriere non ti conosce guarda ti aspetto quel cappellato ma non ne ha tappato mi vuoi lasciar qua sola eh di te hai paura? paura? figurati ma mi stecca che il cameriere veda che sono venuta qui a guardare a controllare beh ci faccio una figura oddio zitta eccolo è venuto proprio lui beh allora che faccio? vado io? eh sì ma io ti aspetto fino e di un po' se volesse attaccare con me? ah padronissimo e lei il cameriere del signor Vanni? non faccia la spiritosa tenga va via la sua signora signora? ah dica un po' quando le incontro una ragazza che poi non è del tutto disfressabile è sempre così mal educato? non ho tempo da perdere addono addono insomma distante addono 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 dime ADVIS